Abbiamo detto in apertura una raccolta firme per porre fine alle folli corse in via era nel quartiere sassarese di Lipunti. Vediamo il servizio di Chiara Fancello. Una raccolta firme dei residenti per porre fine alle folli corse in via era nel quartiere sassarese di Lipunti. I residenti di commercianti sono esasperati ed hanno paura per l'alta velocità delle auto che transitano davanti ad asilo, chiesa e centro per anziani. Circa dieci mesi fa una delegazione formata da residenti, commercianti e associazioni si erano rivolti al comune di Sassari protocollando una richiesta ufficiale nella quale si chiedeva un intervento urgente facendo richiesta di apporre segnaletica, dissuasori e il ripristino del manto stradale oramai completamente deteriorato. Nonostante l'importante sollecito, a distanza di dieci mesi nulla si è mosso e il pericolo per i bambini, gli anziani e tutti i residenti della zona resta altissimo. L'augurio della popolazione residente è quello di non dover piangere per altre croci sulla strada e non solo per gli umani ma anche per gli animali che sono vittime di serie B e delle quali poco si parla. L'appello quindi all'amministrazione e a chi di competenza è quello che si ponga un rimedio ad una situazione di pericolo oggettivo e per la quale l'intervento risulta oramai improcastinabile. Grazie mille. Grazie mille.